Cinquantenne romano di adozione, il colonnello Marco Riscaldati e il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara, questa mattina la presentazione alla stampa dell'ufficiale che si è insediato lo scorso 12 dicembre. Mi sono reso conto che il territorio è molto variegato, eterogeneo e quindi con comuni anche che sono molto piccoli e proprio in queste realtà territoriali in cui appunto la collettività ha bisogno maggiormente della vicinanza delle istituzioni e siccome nella provincia, naturalmente scuso il capoluogo, come presidio di polizia c'è solamente l'Arma dei Carabinieri, l'Arma dei Carabinieri deve continuare così come ha fatto egregiamente fino adesso a essere il punto di riferimento per la collettività e ritengo, anzi sono sicuramente convinto che lo debba fare in sinergia con le amministrazioni comunali. Devo dire che Pescara era nella lista dei miei desideri delle città appunto in cui potrei svolgere servizio come comandante provinciale proprio perché mi piaceva l'idea di avere la possibilità di comandare un comando provinciale sul mare, e Pescara forse uno dei pochi che ha queste caratteristiche, un bellissimo lungomare e quindi insomma sono molto contento. Poi tra l'altro a me piace anche forse di più il mare d'inverno e quindi insomma sicuramente quando potrò farò qualche passeggiata pure con il tempo brutto.